Ben trovati da Tg della Mobilità, l'euro dopo l'evento della Formula E prosegue lo smontaggio del circuito. Stanotte dalle 20.30 fino alle 5.30 di domani mattina, prevista la chiusura di Piazzale Parri di Viale Tupini da Piazzale Parri a Piazza Gandhi. Dalle 20.30 a fine servizio sono deviate le linee 31, 771, 780 e 788. Domani dalle 10.30 alle 13.30 manifestazione sindacale a via Molise, sono possibili disagi e deviazioni del traffico.